La storica funivia di Merano 2000 va in pensione al suo posto, il nuovo impianto in funzione dal prossimo Natale. Vediamo i dettagli. Un'ultima corsa per le storiche cabine di Merano 2000, la celebre funivia che per 42 anni è stata protagonista assoluta del turismo invernale del burgraviato e non solo. Eccolo l'ultimo capitolo di una lunga storia che apre le porte ad un futuro più tecnologico, quello della nuova grande struttura fatta di veicoli della portata oraria di 880 persone, 120 la capienza di ognuna per 7 minuti totali di percorrenza del tragitto. Un addio commosso quello che il direttore di Merano 2000, Franz Piksner, assieme a tutti coloro che in questi anni vi hanno lavorato, ha dato al celebre e frequentato impianto. Ma il ricordo della vecchia funivia certo rimarrà e non solo vivo nel ricordo di sciatori ed escursionisti. Le vecchie cabine verranno infatti messe in esposizione nei negozi Sportler di Merano e di Innsbruck e al Museo di Berlino. Tutti gli impianti a fune continueranno a funzionare fino a Pasqua, servendo le belle piste perfettamente innevate della struttura. Poi l'addio sarà definitivo.